Con il passaggio di consegne voglio regalare alla nuova Secretaria di Porta Dio Revolta, che è un melograno. Il melograno è il simbolo di prosperità, di fortuna e simbolo ovviamente di salute, quello di cui il nostro partito con il plan secretario sicuramente avrà. Intanto voglio ringraziare il segretario riuscente Enrico Letta per il prezioso lavoro svolto in questi anni per la collaborazione a livello personale e naturalmente poi attendiamo l'Assemblea che sarà presto convocata, credo che sarà il 12 marzo e sarà quello il momento in cui poi l'Assemblea porterà la nuova Secretaria del Partito Democratico.